A Cortina d'Ampezzo chiude il Miramonti Majestic Grand Hotel. Di fatto si tratta di una sospensione della licenza ordinata dal prefetto Mariano Savastano alla luce delle disattese prescrizioni dei vigili del fuoco, alle quali i gestori dell'hotel non avrebbero dato seguito dal settembre 2022. Prescrizioni per la verità che fanno riferimento a una normativa in materia antincendio in vigore già da quasi 30 anni, dal 1994. Così già ieri sera è arrivato come atto dovuto anche l'ordinanza firmata dal primo cittadino Gianluca Lorenzi di Cortina d'Ampezzo che ne ha appunto ordinato la chiusura, così si legge nel testo, per irregolarità e incolumità dei clienti. Ordinanza inviata anche a procure, presidente della provincia, oltre che polizia locale, prefettura, segretario. L'hotel è da sempre stato riferimento del G7 internazionale fin dalla sua costruzione di fatto, ospitando principi arabi, attori, scrittori e nomi illustri di tutti i tempi dall'inizio della sua attività nell'estate del 1902 ad oggi, dove la struttura accoglie anche numerose iniziative ed eventi che ravvivano le diverse stagionalità. I tempi della riapertura non sono attualmente stimabili, sarà quindi necessario valutare da parte della proprietà quali interventi sarà necessario fare e quanto investire.